Da anni a Campobasso si parla di raccolta differenziata ma ancora non parte in toppi e ritardi nel corso del tempo Lungaggini, un progetto sperimentale stato avviato dall'amministrazione di Bartolomeo e proseguito dall'attuale nel centro murattiano, una raccolta che ha riguardato i commercianti. Il consigliere incaricato Stefano Ramundo ha concluso dopo circa quattro mesi a dicembre il percorso di ricognizione valutando la situazione in città, gli aspetti critici e quelli positivi e ha analizzato anche i casi italiani, le buone pratiche da prendere in considerazione. Ha riportato quanto riscontrato in un incontro preliminare alla presenza del sindaco Battista, del vertice della SEA, società che gestisce il servizio rifiuti e dei dirigenti comunali. Sul tavolo come passare dal sistema attuale di raccolta dell'immondizia a una nuova programmazione. Ancora nulla è definitivo, è stato spiegato anche se le idee ci sono e sono stati calendarizzati obiettivi e azioni. Pure la commissione ambiente si è attivata. Si valuta sia il porta a porta sia il sistema misto. Bisogna considerare, hanno rimarcato ancora da Palazzo San Giorgio, i costi, la fattibilità sulla base delle criticità urbanistiche, il parco macchine, il sostegno economico della regione e il piano industriale. Si tratta di una città con 50.000 abitanti per la quale l'opinione di chi sta valutando l'iter servirebbe una spesa per la differenziata di almeno 3 milioni di euro ma anche di più. Il percorso politico è stato avviato, ha detto Ramundo, ora bisogna andare veloci ma essere attenti. L'obiettivo sarebbe quello di partire entro l'anno, possibilmente a ottobre, almeno nella fase iniziale. Certo è che Campobasso non può rimanere indietro sul punto rispetto ad altre realtà italiane e soprattutto ad altri capoluoghi di regione.